Sì, 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 sì. Uff, ma che decimo bello a colo e basta. E' quasi bene, se ci passa fatica e so' uscire. Non voglio capire. Sì, non è un sottile. Ah, è un po' aимся tranchato bene. Ecco, appena attenzione. Questa è la prima. 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 Grazie. 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 Posso dare un caffè lungo per favore? Ok Cazzo, mi hanno dato scacco Era qua la tua volta? E vabbè Non tocchiere Ha senso anche questo Ha senso anche questo Scacco Scacco Vabbè Si stanno parlando tutte le scale dell'Europa E' la ricerca E' la ricerca E' la ricerca Cosa c'è la ricerca? Ah mi vuole il caffè Guarda E' la ricerca No, no, no 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 Cazzo, faccio Che roba Sono contento che faccio io Ah Sono strano maestro Vai a mangiare Non l'anno Ah vado Ah vado Oh 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 Oh